A un popolo di YouTube, io sono Echil e benvenuti qua in questo nuovo fantastico video su Star Wars Battlefront 2, insieme ad alcuni amici. Se questo genere di video vi piace su multiplayer del genere, beh, ditevolo qua sotto nei commenti che continuerò a fare video di questo tipo, in pratica. E niente, buon divertimento! E vabbè, sono in 50! Uno l'ho ammazzato, basta in 50. E c'è punto dato della morte che è morto. E là Palpatine. Cazzo, sto per prendere la palpatine. Due soldati della morte Palpatine. Cioè, ragazzi, due soldati della morte Palpatine. Due soldati della morte Simbi, e so. Inserati della morte sono fortissimi, sono stati da morte, sono qui perché ti sciottano. Cazzo. Ufficiale è andato, sento una spada laser, quindi mi spira, panor. Ahia! Mentre ho fatto partire Palpatine in maniera bellissima, non ho visto andare verso l'universo. Anch'io, ti ho visto perché sono morta nel contempo. L'ho visto partire verso l'universo. E' un po' di riusco a sponare! E' un po' di riusco a sponare, ragazzi! Ah, io fanculo vado verso, vado verso D? Sono verso E adesso. Ma to' non ho conto, cazzo, sono resistenti, bastardi della morte. Sì, t'ho detto, i soldati della morte sono immortali, quasi. Sono resistentissimi, ti buttano su subito. No, in colonna fanno. Quindi ti raggiungo in D? Io sono in Cibia, che sono me la mamma. D, 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 D! Sono il nostro spawn predefinito, ma che cazzo? Lo so, è come me prima con Yoda. Ok, sta catturando D? Sta catturando D? Ci ci. Io provo ad andare a B, ma la vedo dura. Vado, c'è, vado, c'è, vado. Ma vaffanculo, va, con lancerati. Dai, no ci credo, mi sono incastrato. Sono morto. Solo primo. sono diciannovesi c'è qualcuno che fa più schifo di me non so come sia possibile ok questo controllo di rischio per no ragazzi sotto della morte ma presso attraverso ragazzi suoi c'è un soldato della morte quale dei tanti come qualità di occe ne sono un bordello ce ne sono almeno 34 che vagano i soldati erano e va beh va beh non importa che ok ho appena preso di arrivo tesoro e arrivo stanno da sopra che è arrivato ok qualcuno vado b vado subito subito arrivo tre soldati della morte c'è anche b i ragazzi mori ma poco affetto subito c'è doc maurin si grazie ci vai su c che è vicino a di bella ragazzi l'ho difeso b maia alla città c'è uno che vola mai sì sì ma cazzo è arrivato a boba fett di merda o cristo ma io sono spuntato davanti a tre persone arrivano su c arrivano su c arrivano sono tanti capi sono tantissimi ma come per i per i così come stanno ragazzi teneteli teneteli abbiamo iota che ci dà una mani ci stanno facendo il giro sul lato sinistro in c cazzo sono morto arrivo rivoluzione è molto 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 negativi vabbè 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 b capisco la sebo hai finito di romper le balle non ha finito di rotta le balle perché ho fatto fuori quattro persone col banzo ragazzi stiamo catturandovi arrivo arrivo cazzo entrano in c entrano in c raga cazzo è proprio vendere un bb pensiamo c ok vivi vivi vedevici cattroia dipendendoci i ragazzi però c'è un soldato della morte dai banca poco banca poco banca poco dai cazzo boba fett ok porca vacca c'è un cecchino da lontanissimo subì attenzione i ragazzi b forse lo sto catturando ok lo subito arrivo cibo va bene lo vedo erano al 50 per cento loro erano 50 per cento che cazzo e rimontano ragazzi che erano z che tutti erano z che ho distrutto tutti e tutto grande grazie su di subì volevo dire subì a tirato almeno di un sotto li abbiamo chiusi a panino in b sicilio distrutti tutt'era anche io bastardo mi ha preso b manca di là di poco nulla però io sto tentando di prendere a ma se tipo pieno così di nemici sto provando ad arrivare o mio dio genio da sti hai ragione c'è troppa roba ma va a cagare o la testi ragazzi ciò testi ok ciò mai è una b è un po di fegno raga arrivo si devono trattare tanto di cattiveria ragazzi vengono difendere ci dovete aspettare un attimo che arrivo ho visto un veicolo diretto verso b no merda al sole in arrivo a trt in b io sono in a sto conquistando a dai ti prego non c'è nessuno ok ha presa devo fare il giro ragazzi non riesco a passare su 3 strette queste qua vi è stata dispesa no prendendo nessuna attenzione ma è stata presa dai abbiamo anche poco abbiamo ente ragazzi non disintegrate col corpo lancerato che sto conquistando di mai arrivo verso tiri che vado su ci sono in c merda stavo conquistando e arrivo arrivato verso e vado aria sono morto cazzo mi vado in d per entrare in e perché stanno prendendo a me cacchio e di qua dove 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 su e su e su e su e su e se io dai di provando aranzo sono in e porca miseria qualcuno mi chiama proprio adesso ok io sono andato merda ragazzi sto pronto a confere merda granata basta capo ora che ho fatto 4 mila punti con una sola vita ho preso cazzo da te non ero risponente ma da dove ma dai mi è arrivato il look da dietro dai se riusciamo a fare niente niente cosa bella giocata io vado in e non vado immediatamente in e bella giocata rega atti è finita è andata perché stanno a 98 per cento adesso ci 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 si provo dai bloccate c però sì bella che un granata in cc bloccata dai dai a bbb cazzo ho preso b torno verso vado a prendere b b b b a noti siamo noi c c si ci storia ma continua ad aumentare di livello io non sto facendo niente comunque va bene cazzo ma dai b b arrivo in b arrivo 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 c'è un'altra cosa ora gara 90 per cento a credente scherzando e ridendo e scherzando ridendo e d'altro che dai non 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 poi non diciamo nulla non diciamo nulla ok abbiamo di stato a vai 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 teniamo riteniamo 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 riteni Sì! 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 Sì, cazzo! Anche questa registrala! No, non è possibile! Una battaglia da Dio! Dio! Cazzo! Cazzo! Dio, bambino! Hai mai idea di che cazzo abbiamo fatto in queste due partite? Dio, bambino! Sì!